Nel 2019 ci troviamo qui, zona quartiera Aranceto, con un gruppo di cittadini volontari che cerca di sopperire alle inefficienze dell'amministrazione. Questo è un quartiere che è ormai abbandonato da tempo, come altri quartieri della città, soprattutto quelli periferici, dove l'amministrazione è totalmente assente, dove le istituzioni praticamente danno segni di vita ormai da tempo, dove regna il totale disordine purtroppo. Abbiamo problemi non soltanto di mancanza di cura di verde pubblico, ma abbiamo anche problemi riferibili ai rifiuti che sistematicamente non vengono raccolti. Ma il problema sostanziale che c'è, che si evidenzia in questo quartiere è che purtroppo si denota la totale mancanza dell'amministrazione. non vi è nessun cenno di presenza. Vorrei ricordare che qualche tempo fa qui c'era presente una sede distaccata delle politiche sociali che comunque poteva essere un segnale di presenza. Anche questa ormai non c'è più. Quindi questi cittadini si sentono totalmente abbandonati a loro stessi e oggi vogliono dare simbolicamente dimostrazione della loro presenza, vogliono dimostrare all'amministrazione comunale che qui c'è un quartiere che vuole resistere alle mancanze altrui. Qui abbiamo tanti cittadini, tra cui un punto di riferimento è il signor Franco che sta cercando di dare simbolicamente, di dimostrare che qui c'è una presenza attiva di cittadini che vuole dimostrare appunto all'amministrazione che qui le istituzioni devono essere presenti. Prego Franco. Sono presenti soltanto quando hanno bisogno dei voti, dopodiché ci abbandonano eternamente. Questa è la verità. E quindi siamo costretti poi ad intervenire noi. Faremo bene, faremo male, ma...